Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Mauro e questo è il nostro centro estetico dell'auto. Oggi faremo lavorazioni su natalizie, per così dire, infatti sono anche in tema. No, è che prima di salutarci, per la pausa natalizia, lavoreremo su questa con un palladium washer. E poi avremo anche un'altra auto che faremo, e ve la farò vedere in un secondo video, lì abbiamo sia interno che esterno. Però intanto facciamo questa Hyundai i20, nera, non è sporchissima, però comunque il cliente mi ha richiesto la lavorazione, quella che noi chiamiamo appunto palladium washer, da 120 euro. Ovvero lavoreremo sul doppio pre-wash, uno shampoo a base acida, andremo a lavorare molto meglio anche i cerchi sotto scocca. E rifiniremo il tutto con un protettivo della durata di sei mesi, un protettivo al grafene, quindi una doppia mano di questo protettivo, che non è un anno tecnologico, però è solo a base di grafene, per dare una durata più lunga a livello di idrorepellenza e per evitare che poi l'auto si sporchi immediatamente con nebbia, sale o si vada ad usare nel tempo. Partiamo con la lavorazione. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.